Il fenomeno meteo più potente in natura sono le trombe d'aria, dove più potente intendo quanti danni può fare in un'ora. Un uragano, pur essendo con forti venti e un'estensione di 300-400 chilometri e dura 7 giorni, fa più danni ma in sé non è in grado magari di sradicare un albero di mezzo metro e alto 10 metri, la trombe d'aria lo fa, ossia è più potente decisamente di un uragano, per fortuna dura poco e investe in area più ridotta. Sono possibili le trombe d'aria in Italia? Sì, lo sappiamo, quante volte ne abbiamo sentito parlare, le trombe d'aria discendono da un temporale, dalla nube temporalesca con questa classica nube a imbuto, la cui parte finale al suolo è un piccolo ciclone che ruota con venti fortissimi, fino a 100-150 chilometri all'ora ormai in Italia, ma negli Stato Uniti dove li chiama Tornado arrivano anche 300-400 chilometri all'ora. In Italia dove sono possibili le trombe d'aria? Beh, al nord Italia ha lo sbocco dei grandi laghi, no? Possiamo il Val Ticino, appunto i laghi Lombardi, la Val d'Ossola, le valli, quelle dell'Emilia-Romagna, ma questo evento è più frequente in estate, fino ad agosto può capitare, ma adesso con l'aumento delle temperature non vorrei che capiti anche il settembre. Mentre al centro sono più frequenti in realtà tra settembre e ottobre, perché arrivano poi venti di maestrale in arrivo dal sud della Francia, soprattutto sul Lazio e sulle coste toscane, al sud invece sono più frequenti fino a novembre, ottobre-novembre, per il momento in cui le acque del Mediterraneo sono particolarmente calde e quindi favoriscono questi fenomeni.